Nuovo colpo dei ladri di rame è successo a Paviola, frazione di San Giorgio in Bosco, nell'Alta Padovana, la notte tra sabato e domenica. In gente il bottino, tre quintali di cavi elettrici e tre quintali di truciolato d'ottone. Un furto del valore di migliaia di euro. È successo in un'azienda di automazioni e robotica nella zona industriale della frazione lungo la Val Sugana. I malviventi, probabilmente professionisti, hanno atteso che il capannone fosse sgombro per entrare in azione. Hanno forzato il cancello e sono entrati facendo razzia. Hanno poi caricato il materiale sul furgone e sono fuggiti lungo la Val Sugana. Ora indagano i carabinieri di Cittadella.